Stiamo chiudendo con Coach e Simona a 70. Io non ho mai incassato 70 in un mese, sono sempre arrivato sui 30. 70 euro? Fai 70 euro al mese. 70 mila. C'era una parte di me che aveva una mezza spina attaccata al mondo Matrix del mondo della vendita. E poi c'era una parte di me che era già nel mondo Linners, solo che poi l'ho scoperto che si chiamava così all'interno dell'Accademia Closer. La mia percentuale di chiusura, diciamo che è aumentata parecchio, vicino al 95% ad oggi, quindi direi che è un'ottima percentuale di chiusura. Sono stata felicissima perché è arrivata la casa, è arrivato il lavoro nuovo. Io ero un networker che aveva difficoltà nel comunicare con i potenziali clienti. L'Accademia Closer mi ha dato proprio una sicurezza, mi ha dato le competenze che mi mancavano. Io sono un terapista, questo mese non ho ancora chiuso ma ho già fatturato, cioè già incassato a più di 5.600 euro. E allora ne incassavo invece a 1.500 e facevo una fatica boia a tirare la fine del mese. Una delle cose più importanti sulla quale non avevo mai lavorato prima è il mindset sicuramente del denaro. È stata un'esperienza straordinaria perché mai nulla di più completo ho potuto sperimentare io nella mia maniera, pur essendo, come potete immaginare, una banca un luogo dove si fanno tanti corsi. Io ho un'azienda, compro e vendo auto a Bologna, ormai in questa sede da 13 anni ma faccio questo mestiere da 30. Ho fatto il percorso che mi ha portato dopo pochissimo tempo, dopo poche settimane, subito ad avere una sicurezza, a risentirmi in un ambiente protetto e a fatturare. Potrei dire oltre, ho duplicato tranquillamente. I primi sei mesi sono stati sei mesi fantastici. È stata una grande emozione rinascita, penso, da ritrovarmi in leggero smarrimento all'inizio, una rinascita davvero spirituale e professionale. La visione è migliorata, la programmazione, la mentalità fortissima che ho ricevuto. Il mio obiettivo era molto chiaro, cioè io avevo dei problemi interiori e mi sento di dire che li ho superati tutti, i risultati ci sono stati. È difficile condensare delle emozioni così grandi come quelle che ho sperimentato con voi. Mi ha cambiato la vita, sì, può sembrare una cosa digerata, quella che dico, ma se vi faccio vedere un filmato di quattro mesi fa, di cinque mesi fa, di come ero, i cambiamenti si vedono. Grazie a tutti.